Posta Guevara sorge nell'originario tenimento della famiglia Guevara, duchi di Bovino, e ricade nel comune di Orsara di Puglia, nel subappenino da Uno Meridionale. È una terra antica, ricca di storia e di tradizioni popolari. Noi abbiamo voluto chiamare questo luogo, questo agriturismo Posta Guevara, perché ci siamo riportati appunto ai duchi di Bovino, che erano un'antica famiglia di origine spagnola, che acquistò la città di Bovino nel 1500. Abbiamo realizzato questo agriturismo, che ha una forte vocazione cerealicola, così come facevano i nostri nonni. In particolare abbiamo rivolto la nostra attenzione alla coltivazione del grano senatore Cappelli, che è un grano ormai quasi estinto. I nostri nonni coltivavano appunto in questi territori questo grano, che aveva una particolarità, che era molto alto, con una cruna molto scura, con una percentuale di proteica elevatissima, ed era un grano appunto d'eccellenza, un grano duro da cui si ricavavano le semole per fare la pasta fatta in casa e del pane, che è una caratteristica tipica della zona. Io in questo agriturismo con mio marito ho voluto riprendere questa tradizione, coltiviamo questo grano, e soprattutto perché ci interessa l'aspetto legato all'alimentazione. A causa dell'elevata altezza di questo grano, appunto di 1,80 m, era facile subirne l'allettamento, queste zone appunto sono molto ventilate, ragione per cui questo grano nel tempo ha subito una manipolazione genetica con l'irradiazione dei raggi gamma, appunto per nanizzarlo. Pare che dalla manipolazione genetica derivi il problema della celiachia, ragione per cui ci piace e ci appassiona l'idea di contribuire anche con l'università a degli studi specifici per risolvere questo problema ormai diventato molto annoso. Il nostro punto di forza è diventato proprio la pasta fatta in casa e il pane, che noi realizziamo appunto con questa semola senatore Cappelli. In più, sempre nella tradizione cerealicola, abbiamo condotto delle ricerche e abbiamo recuperato un'altra antica tradizione importantissima, quella legata all'uso della farina di grano arso. Che cos'è? È praticamente una farina che si ricava dai chicchi bruciati perché riprendono un'antica consuetudine contadina. Le donne più povere del paese andavano a spigolare le spighe di grano arso da cui poi si ricavava questa farina ed è una farina storicamente legata alla cultura popolare e ad una tradizione di cucina antica. Quindi il nostro punto di forza è il pane e la pasta, che qui vediamo rappresentati anche in forma diversa, proprio per far notare questo contrasto cromatico. Uno dei nostri piatti di forza è proprio quello che noi abbiamo definito cavatelli di grano arso alla Guevara. Praticamente sono questi cavatelli che noi ricaviamo con questa fattura delle nostre nonne, che sono un po' l'emblema della Puglia insieme all'orecchietta, ma ancora più tipico nella nostra zona dell'entroterra. Che noi cuciniamo con un pomodinino cotto nel forno a legna e lo condiamo semplicemente poi con del cacio ricotta, che è una particolarità di Orsara di Puglia. Fossa Guevara in più ha avuto due riconoscimenti che noi riteniamo che siano una tappa importante nella nostra vita professionale e aziendale. Una è legata al riconoscimento di Locanda Rurale Europea. Abbiamo avuto questo riconoscimento a seguito di un bando indetto dal Galmeri Daunia nell'ambito del progetto Leader Plus e quindi siamo la prima Locanda Rurale Europea riconosciuta. Di recente abbiamo avuto il riconoscimento di masseria didattica, proprio legato al mondo delle farine e dei lieviti naturali. Qui da noi si ospitano le scolaresche e facciamo provare ai ragazzi l'esperienza di manipolare le farine con i lieviti per ottenere queste paste particolari per questi pani, anche dei pani speciali, che noi cuciniamo poi nel forno a legna. La nostra cucina è improntata sull'autentica tradizione culinaria dei Monti Dauni. Attraverso la presentazione del pane che noi facciamo con questa semola e soprattutto perché ci piace legare la nostra cucina alle tradizioni del posto e soprattutto della Puglia. Quindi da noi si cucina soltanto con l'olio di oliva, peraltro biologico, e con l'utilizzo dei prodotti nostri. Da noi si può riscoprire la voglia di semplicità anche in un'occasione importante, lasciandosi conquistare da antichi sapori che rievocano tempi lontani. Quindi ci piace comunque legare degli episodi eccellenti a dei momenti di vita contadina, un discorso assolutamente rievocativo.